nella lezione precedente abbiamo visto che cos'è un vulcano come nasce e qual è la sua struttura in questa lezione vedremo i vari tipi di vulcano perché vulcani non sono tutti uguali iniziamo dai vulcani a scudo come quello mostrato in questa foto i vulcani a scudo hanno un edificio vulcanico molto grande in particolare molto esteso con forma in pianta circolare o ellittica hanno i fianchi poco inclinati come volete vedere da qui quindi fianchi poco inclinati sono molto estesi e sono formati da strade successivi di colate laviche fluide in questo modo essendo la lava fluida riesce a scendere facilmente per queste grandi distanze quindi in base al tipo di lava abbiamo un tipo di vulcano diverso perché più è fluida la lava più scende facilmente lungo questi pendii come vedete si chiamano a scudo perché sembrano degli scudi appoggiati sulla crosta terrestre o per questa per questa particolare forma i vulcani a scudo più famosi sono il mauna loa che quello in foto che si trova nelle isole hawai e il kilauea passiamo adesso al secondo tipo di vulcani il vulcano nella foto e l'etna è un esempio di vulcano a strato o strato vulcano lo strato vulcano ha una forma conica quindi la classica forma della maggior parte dei vulcani ed è a strato proprio perché è formato da strati alternati di lava e ceneri come potete vedere qui in queste immagini quindi abbiamo strati di cenere alternati a strati di lava che si solidifica a differenza del tipo precedente quindi di quelli a scudo sono più ripidi quindi hanno i fianchi più ripidi rispetto a quelli a scudo e hanno una forma più simile al cono mentre gli altri erano più bassi e larghi un esempio di strato vulcano in italia è il vesuvio mentre il monte fuci in giappone o l'etna che vi ho messo qui in foto quindi questo è l'etna quindi oltre l'etna il vesuvio in italia e il monte fuci in giappone passiamo adesso all'ultimo tipo l'ultimo tipo si chiamano coni di scorie come quello che ha mostrato qui nella foto questi vulcani sono piccoli per quanto riguarda le dimensioni hanno i fianchi molto ripidi e se consideriamo come tempo i tempi geologici a differenza degli altri hanno una vita breve e questi vulcani si formano dall'accumulo di cenere e lapilli passiamo adesso a vedere i vari tipi di attività vulcanica in particolare vedremo l'attività vulcanica esplosiva e l'attività vulcanica effusiva iniziamo da quella esplosiva parliamo di attività vulcanica esplosiva se durante l'eruzione c'è un'espulsione violenta di gas e piroclasti questo tipo di attività vulcanica è presente prevalentemente lungo i margini convergenti ed è un tipo di attività vulcanica molto pericoloso per l'uomo perché è il più distruttivo tra i due tipi passiamo al secondo tipo abbiamo un tipo di attività vulcanica effusiva se durante l'eruzione prevale l'emissione di lava calda e fluida mentre nel caso precedente avevamo un'espulsione violenta di gas e piroclasti quindi eruzione effusiva se prevale l'emissione di lava molto calda e fluida in questo caso il rischio per l'uomo è limitato rispetto al caso precedente e questo tipo di attività vulcanica è diffuso prevalentemente lungo i margini divergenti e in corrispondenza dei punti caldi quindi etna e vulcani hawaiani sono un esempio di attività effusiva quindi il primo tipo riguarda margini convergenti quindi quando le placche si avvicinano avviene soluzione mentre il secondo tipo riguarda margini divergenti quindi quando le placche si allontanano e il magma riesce a fuoriuscire dall'apertura che si forma tra le due placche vediamo adesso perché ci sono questi due diversi tipi di attività vulcanica abbiamo questi due tipi di attività vulcanica perché non tutti i tipi di magma sono uguali allora vediamo come può essere il magma che alimenta il nostro vulcano possiamo avere due tipi di magma il magma acido che è più ricco di silice e alluminio e questo tipo di magma è molto viscoso oppure il magma basico o basaltico che è povero di silice ma ricco di ferro e magnesio ed è molto più fluido quindi questo è un tipo di magma viscoso e questo fluido quindi il tipo di magma acido trattiene più gas al suo interno e quindi riesce a raggiungere una pressione elevata che provoca l'esplosione proprio del magma per fuoriuscire dal vulcano e quindi abbiamo un'eruzione di tipo esplosiva perché la pressione provocata dai gas all'interno del magma acido è molto più elevata della pressione litosferica di cui parlavamo l'altra volta mentre nel caso di magma basico che è più fluido abbiamo magma che trattiene meno gas e quindi l'eruzione non è di tipo esplosivo ma il magma essendo più fluido esce senza esplosione inoltre nel caso di magma acido cioè più viscoso essendo più viscosa quindi la lava che vi ricordo è il magma senza la componente gassosa questa lava può anche ostruire il camino del vulcano in questo modo riesce a chiuderlo formando una specie di tappo quindi la pressione interna del magma deve essere così alta per far togliere il tappo e in questo modo va a provocare una forte esplosione cosa che non succede nel caso di magma basico perché essendo fluido non riesce a formare il tappo che forma l'altro tipo di magma grazie a tutti Grazie a tutti.